Buongiorno a tutti, allora, 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 campionato italiano, campionato italiano, si parte oggi alle 15 con Lecce e Monza, poi c'è il partitone, la sfida tra la terza e la seconda, anche se la distanza tra le due squadre è abbastanza importante, ma più che altro serve per la formazione di casa, per blindare il suo terzo posto che è sempre più insidiato da questo Bologna delle meraviglie di Tiago Motta che forse l'anno prossimo potrebbe sedersi al posto di Allegri sulla panchina bianconera, non si capisce più la beata Giovanna, un giorno arriva uno, un giorno arriva l'altro, un giorno arriva quell'altro, no, però resta, però a parte, resta, parte, resta, parte, resta, parte, arriva quello, arriva quell'altro, vabbè, affari loro. Comunque, ragazzoni, partiamo da Lecce e Monza, da una parte è una squadra che non ha nulla da chiedere al campionato, dall'altra una squadra che, vista anche la vittoria del Frosinone di ieri sera, diciamo che è tranquilla, ma non troppo in classifica, perché, ragazzi miei, il Lecce si trova a 35 punti più 4 sul quadrilatero, diciamo così, Empoli alla Sverona Frosinone, che sono appena sopra di 3 punti sull'Udinese, quindi Lecce ha 7 punti di vantaggio sull'Udinese, che in questo momento è terzo ultimo, ma che deve ancora fare la sua partita, invece il Frosinone ha già giocato. Quindi per cui Lecce e Monza, diciamo che il pareggio potrebbe andare bene a entrambe, ma non penso che giocheranno nessuna delle due per il pareggio, anche se il Monza ormai le chance di Europa sono nel cassetto, è undicesimo a 43 punti, si trova a 6 punti dal Napoli, quindi direi che bisogna vedere il Monza come andrà a Lecce, se ci va a fare la scampagnata il Lecce avrà vita facile. Se invece va a dire, signori, noi vogliamo onorare il campionato, vogliamo fare il record dei punti, visto che il nostro primo anno in Serie A vogliamo arrivare per dire a 50, e quindi è tutto da giocare. A 50 forse non possono arrivarci perché sono a... Ho detto un numero a caso ai ragazzi, no, a 50 ci possono arrivare tranquillamente, anzi anche a di più, sono a 43 punti, mancano 6 giornate, possono arrivare addirittura a 60. Quindi per cui Lecce e Monza, anche se sono molto... visto che sono comunque molto tentato sull'X, diciamo 1X dai, 1X. Sei molto tentato a mettergli sfisso, ma è un po' a rischio. Juventus-Milan, 1. Juventus-Milan, 1 per un semplice motivo. Il Milan ha fuori Tomolli e Teo Hernandez. Calabria non lo considero neanche perché tanto gioca al suo posto Florenzi che gioca pure meglio, anche se l'hanno fatto capitano, io non so come fanno a far capitano Calabria però. Affari rossoneri. Teo Hernandez, nonostante mi stia sui testi in maniera esponenziale, le sue incursioni eccetera potevano mettere in difficoltà la Juventus, quindi Milan che va là con fuori Calabria, Tomori e Teo Hernandez. Ripeto, Calabria lo può sostituire ben benissimo anche il buon Florenzi, se non sbaglio. Il problema è sostituire Tomori e Teo. Quindi la Juve in attacco ne può approfittare. C'è un Blaovic on fire, come si suol dire, che con Lazio ha sbagliato di tutto di più o meglio, il portiere gli ha parato l'impossibile, palloni fuori. Vabbè, solite cose di Blaovic, ma magari sfruttando il fatto che la difesa del Milan sarà un po' ramberciata, diciamo così, potrebbe. Quindi mi arrischio l'uno ragazzi. Poi magari mi ama vincere a Torino con la Juve, tanto di guadagnato, almeno i bianconeri. Anche perché la Juve è riduce dalla partita con la Lazio, che è stata comunque dispendiosa. No, mettiamoci un 1x, dai. Allora, per i Breivart uno, per gli altri uno x. Lazio è la Sverona. Mi spiace per il Verona, ma dico uno. Anche perché ormai la Lazio non ha più nulla da chiedere se non cercare di arrivare in zona Europa, possibilmente in Europa League e non in conference. Però, ripeto, una Lazio in conference avrebbe un bel 60% di probabilità di portarsela a casa. E non è che fa schifo portare a casa la conference. Poi, ma ci sono quelli che sono coppettino, una coppettina, ma tu manco quella vinci. Cazzo parli. Un conto, le strisciate, va bene. No, ripeto. Giocare durante la settimana è bello. Vedere gli altri che giocano è sempre una cosa antipatica, anche se giochi una coppa minore. Però hai più chance di vincere. Quindi, temo Lazio-Verona 1. Poi, attenzione al Verona, Nozlin. Nozlin. Inter-Torino, partita delle 12.30. Allora, ragazzi, questa è una partita di un contorno a Beata Giovanna. Inter è già campione d'Italia. Hanno già in mente i festeggiamenti sul pullman, l'attraversamento di tutta Milano, partendo da San Siro fino ad arrivare in Duomo. Poi arrivano in Duomo, si affacciano, affacciati alla finestra di Intermia. Tutti è lì ad applaudire, eccetera. Io sarò a lavorare, quindi vedrò la partita e poi vedrò un po' di Bologno-Udinese domani e poi ve ne vado al trabacco e finisco soliti orari. Indi, per cui Inter-Torino, io sono moderativamente poco fiducioso sulla gara, proprio perché la mente è a festeggiamenti. Una delle prime partite che vidi fu campionato 1979-80 quando festeggiarono il dodicesimo scudetto e ci fu Inter-Ascoli. Aspettate che controllo se magari la mia memoria era piccola, avevo 12 anni, mio papà mi portò appunto a vedere quella partita lì perché c'erano i miei festeggiamenti, eccetera. Non era come adesso che San Siro era super gremito che andavano in 750.000 anche se erano i festeggiamenti per lo scudetto, quei giocatori che entrarono con il coso del... E quindi volevo vedere se mi ricordavo giusto Inter-Ascoli. Esatto, finì 2 a 4 per l'Ascoli. Era l'ultima giornata di campionato. Aspettate che controllo. Esattamente. Finì 4 a 2 per l'Ascoli proprio perché l'Inter ormai aveva in mente di festeggiare lo scudetto e basta. L'avevano vinta la settimana, una o due settimane prima pareggiando 2 a 2 in casa con la Roma, con il di Canuti. Vedete, le mie memorie. E quindi non vorrei che in questo Inter-Torino facciamo la stessa fine anche perché comunque il Torino ha ancora qualche chance di andare in conference soprattutto perché Fiorentina e Napoli non sembrano molto interessate alla medesima. E siccome il Toro è a 46 punti, il Napoli a 49, noi teoricamente dovremmo avere 5 squadre in Champions, 2 in Europa League e una in conference. Tra l'altro la finale di Coppa Italia è tra la terza e la sesta che vuol dire che automaticamente chi vince in ogni caso lascia libero un posto per la conference perché è già qualificato per l'Europa. Se vinci la Coppa Italia vai comunque in Europa League ma se sei sesto vai comunque in Europa League e quindi liberi il posto in conference. in Europa League all'ottava perché se no se vincesse una squadra fuori dalle prime sette per dire vince la nona la decima la nona la decima vado in Europa League le prime 5 vado in conference in Champions la sesta va in Europa League insieme all'altra che ha vinto alla Coppa Italia e la settima va in conference. Invece in questo momento se abbiamo 5 squadre in Champions ne abbiamo 2 in Europa League e 1 in conference quindi fino all'ottavo posto poi andarci e il Torino è a un punto dalla Fiorentina a 3 dal Napoli un pensierino alla conference e quelli non la vogliono fare perché che schifo che schifo che schifo il Torino la prenderebbe volentieri la conference quindi per cui Inter Torino vi dico 1-2 anche se l'Inter dicono che è super favorita eccetera però non vorrei che abbiano in mente i festeggiamenti e non la partita Bologna Udinese 1 mi spiace per l'Udinese di Cannavaro ma questo Bologna è on fire che è andato addirittura a vincere 3-1 a Roma non penso che si farà il retire dall'Udinese e non vedo male non vedo male l'Udinese tra l'altro Frosinone avendo vinto si è proiettato in una posizione tra virgolette più tranquilla con tre punti di vantaggio sull'Udinese e gli sarà dura recuperarli Atalanta Empoli 1 che ve lo dico a fa l'Atalanta in ogni caso anche se sesta un pensierino alla Champions ce la fa ancora perché comunque è a 4 punti dalla Roma e quindi la Roma ha perso l'ultima col Bologna non si sa mai non bisogna mai lasciare nulla di intentato anche perché c'è lo scontro diretto Napoli-Roma proprio diretta alle 18 entrambe in contemporanea c'è Atalanta Empoli e Napoli-Roma ragazzi miei Napoli-Roma dipende dal Napoli se il Napoli fa il Napoli torna a fare il Napoli per una sera può battere tranquillamente la Roma se il Napoli che abbiamo visto anche con l'Empoli eccetera con un Ozyman con tanta voglia tanto coraggio tutto quello che volete ma un po' con le cartucce bagnate se mi permettete il termine un Carascheglia che non è quello dell'anno scorso è diventa dura indi per cui Napoli-Roma 1-2 anche perché il pareggio anche qui serve a poco servirebbe veramente a poco Fiorentina Sassuolo qua dipende dalla 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 Viola che è attesa giovedì prossimo alla gara di andata contro il Bruges di Coppa potrebbe fare un po' di turnover e quindi il Sassuolino potrebbe magari riuscire a portare a casa il pareggino in più questa Fiorentina che ha questa idiosincrasia al gol non riesce più a fare fa fatica a segnare ecco nonostante cioè tu vedi la formazione Fiorentina gioca con Beltrame un esterno da una parte un esterno dall'altra una punta centrale quindi con 1 4 4 2 1 3 ecco no 3 4 2 3 1 4 2 3 1 o 4 1 1 2 1 che lo chiamate come volete o 4 1 3 anzi 4 2 1 3 con i due esterni la punta uno dietro che smista palloni a destra a sinistra in penetrazione eccetera fa il 10 della situazione con due esterni una punta cioè l'immidine eppure fanno una fatica boia quindi Fiorentina Sassuolo 1x anche se non paga una beata Giovanna ma ho paura che possa finire 0 a 0 per la felicità di quelli che al domenica sera vogliono vedersi una bella partita questi magari mi sbaglio viene fuori una partita spettacolaus 4 a 3 eccetera eccetera infine Genoa Cagliari e qua ragazzi miei il Genoa è salvo praticamente tranquillo non ha grilli per la testa 39 punti ha la bellezza di 11 punti sull'udinese in più saprà già l'udinese cosa avrà fatto col Bologna quindi teoricamente potrebbe trovarsi bello tranquillo con 11 punti di vantaggio sulla terz'ultima e potrebbe dire vabbè bel pareggino fa male a nessuno ci prendiamo questo punto andiamo a 40 stiamo bene sta bene anche il Cagliari quindi vi direi 1x anzi x fisso è difficile perché con quel Genoa in casa vorrà vincere vorrà giocare per vincere però il buon Ranieri potrebbe trovare le chiavi per portare a casa un altro pareggiotto che gli sarebbe molto utile per proseguire nel suo miracolo salvezza anche perché il Cagliari zitto zitto cacchio cacchio è comunque a 32 punti ha un punticino in più sul triangolo Frosinone e la Sverona Empoli e vedendo la giornata di campionato è probabile che queste tre squadre Frosinone ha già giocato ha vinto e si è portato a pari merito con Ella Sverona e Empoli le altre due vanno in trasferta contro squadre toste ecco per intenderci quindi la situazione potrebbe rimanere invariata con un Udinese che a Bologna anche loro sta dura ecco per intenderci e lo stesso vale per il Sassuolo che anche lui ha ad andare a giocare una partita sicuramente non facile contro la Fiorentina per cui sapendo già i risultati e sapendo un po' tutto qualora ripeto poi bisogna vedere cosa succederà ma qualora la situazione rimanesse invariata quindi il Genoa andrà a giocare contro il Cagliari sapendo di avere 11 punti di vantaggio sull'Udinese penso che alla fine della fiera un bello 1-1 2-2 per non dare dell'occhio potrebbe saltare fuori e andare bene a tutte e due le squadre quindi mi arrischio l'1x o se qualcuno vuol fare il Brevard l'x fisso non penso che il Genoa si farà battere dal Cagliari perché non gliene frega una beata Giovanna perché tifosi genoani non è che gli piacciono molto queste cosine qua ecco per intenderci andiamo velocissimamente alla schedina alternativa Lecce-Monza gol a 1,90 Juventus-Milan gol a 1,72 dai Lazio-Ellas-Verona over 2,5 a 1,95 magari c'è un Castellanos ancora in forma un Noslin che magari il golletto te lo tira fuori quindi over 2,5 o gol come preferite Inter-Torino non vorrei che mi facciano uno squallido 0-0 ragazzi è una gran paura che sarà una partita pessima poi magari l'Inter fa la partitona perché vogliono davanti al loro pubblico mi si esaltano si mettono a fare calcio champagne eccetera straviccono 4-0 col toro grande partite eccetera quindi rischiamo l'over 2,5 vediamo cosa succede a 1,90 Bologna Udinese over 2,5 a 2 Atalanta Empoli gol a 1,80 perché Empoli un golletto all'Atalanta magari riesce anche a farlo poi ne prenderà 2 o 3 però il gollettino all'Atalanta riesce a farlo Napoli Roma mi sa di partita spettacolaus meravigliaus indi per cui vado di combaus di combo gol più over non facciamo i golosi stiamo schisci gol più over 2,5 a 2,10 senza esagerare Fiorentina Sassuolo ecco questa è la partita che boh è la partita che boh sì veramente perché la Fiorentina potrebbe sbloccarsi con il Sassuolo e farti 3-4 gol tenendo conto che con l'Atalanta ha dovuto segnare Martínez Quarta in tante partite di colpa ha segnato Ranieri a momenti Ranieri segna più di Beltrame e degli altri attaghi di Zola eccetera cioè io se penso a Zola che nello Spezia ha fatto la differenza giocava da solo ha fatto il 16 17 18 gol l'anno scorso apriva spazi apriva le difese come delle delle scatolette di tono da solo metteva in ambasce anche difensori scafati e bravissimi giocando in uno Spezia giochi in una Fiorentina che italiano fa giocare comunque in maniera anche spregiudicatella se mi permettete il termine perché veramente qui i due gol che hanno preso con l'Atalanta in contropiede burlano vendetta sei in dieci stai lì tranquillo giochicchiala ma non tutti quanti all'Ambra in Baggio capisco che hai provato l'All-In perché hai detto se andiamo ai supplementari con l'uomo in meno eccetera eccetera queste ci sfracellano però dopo alla fine ti hanno sfracellato lo stesso quindi o si sveglia la Fiorentina col Sassuolo spattapin spattapun spattapun segnano tutti pure il terracciano di testa su calcio d'angolo cerchiamo di essere propositivi e positivi diciamo over 2,5 1,68 vediamo che succede infine Genoa Caglia rigola 1,90 perché mi puzza di 1 a 1 poi magari Genoa vince 2 a 1 e va bene se ne fotte altamente di fare biscotti o che cosa e va a giocarsi la gara come se gli importasse qualcosa magari vogliono fare il record di punti non lo so non penso perché non so quanto è il record di punti del Genoa in Serie A però un Genoa se non erro del grande scoglio fece molto ma molto bene con i vari Scuravia company ragazzoli io vi saluto vi ringrazio gli ho dato le mie dritte come sempre e ci vediamo alla prossima dopo il campionato italiano si va in Germania campionato tedesco già chiuso vinto dal Bayer Leverkusen prima volta primo scudetto del Bayer Leverkusen in stile Verona dell'85 sapete come andiamo indietro nel tempo però adesso c'è tutta la questione Champions Europa League Conference League lotta salvezza eccetera 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 e ieri sera al Bocum 3 a 2 con l'off e dal partitone e quindi attenzione ciao